Sovraffollamento e carenza di personale al pronto soccorso sono le criticità maggiori emerse dal confronto tra gli operatori dell'emergenza in Abruzzo. L'occasione è stata offerta dal congresso regionale DEA 2023, il sesto organizzato dal direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Chieti, Emanuele Tafuri, che si è tenuto nell'auditorium del rettorato dell'università, Gabriele D'Annunzio. Una carenza di medici importante, così come di infermieri, la carenza si aggira intorno ai 4.500 medici in Italia, un dato che evidenza un 30% in meno, un trend riportato anche in Regione Abruzzo. Affrontiamo quotidianamente queste problematiche, purtroppo anche non c'è stata un'adeguata compensazione con le borse di specializzazione, nonostante la Regione abbia stanziato borse in specializzazione di medicina in urgenza in più, perché purtroppo la nostra professione è vista come una professione troppo rischiosa, troppo dura da affrontare per i giovani, allora noi dobbiamo invece cambiare, invertire il trend, far capire che veramente l'emergenza urgenza rappresenta il pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale. Se crolla l'emergenza urgenza, crolla tutto il sistema sanitario. Tra i temi affrontati durante il convegno, la gestione del paziente fragile, le emergenze cardiorespiratorie, le malattie rare e matologiche. Sono tante le proposte di miglioramento, ma l'urgenza resta legata alla disponibilità delle risorse, per cui l'attenzione delle istituzioni deve essere massima, ha rimarcato Tafuri, soprattutto in un momento storico in cui i medici sono sottoposti a fenomeni come le aggressioni. Il nostro problema è quello di avere delle lunghe attese, dato dal fatto che abbiamo un sovraffollamento del pronto soccorso, dettato da un poca collaborazione da parte di alcuni sistemi che dovrebbero drenare alcuni pazienti che invece di andare sul territorio vengono in pronto soccorso, questo determina un affollamento, un allungamento di quella che è la filiera del percorso diagnostico del paziente. E purtroppo le aggressioni fanno solo che peggiorare la nostra situazione, ci vorrebbe un po' più di senso civico, un po' più di rispetto per capire che noi siamo al servizio, 365 giorni all'anno, H24, di tutti. E dovrebbero essere sostenuti in questo, in un percorso difficile e non aggrediti. Abbiamo l'appoggio delle istituzioni, abbiamo l'appoggio delle forze dell'ordine, ma vorremmo un po' più di senso civico, un po' più di rispetto. Spero che questo possa entrare nella mente dei cittadini e nel rispetto che meritiamo tutti, medici, infermieri e operatori sociosanitari.